Marzo è stato un mese molto proficuo per la lettura. Mi sono portato a casa, devo dire, tantissime esperienze e nozioni importantissime. L'ho fatto con un rinnovato spirito imprenditoriale, con una nuova spinta di miglioramento e con anche la consapevolezza che ogni pagina letta mi porta avanti nella mia crescita professionale ed in quella personale. Questo mese ho letto otto libri e vorrei consigliarveli tutti. Capirete sempre di più tramite le mie letture come il mio approccio agli investimenti si sia sempre di più orientando ad un mix fra investimento da dividendo ed investimento value. Ci dedicherò un video a brevissimo su questo concetto, ma per adesso passiamo oltre. Per tutti i libri vi ricordo che trovate i link affiliati Amazon qui sotto nella descrizione. Un modo per supportare il canale. Leggere e capire i bilanci di Benjamin Graham. Il primo libro è scritto dal maestro in persona, massimo autorità del Novecento, sul tema degli investimenti. Non solo il mentore di Warren Buffett, ma un personaggio, a mio parere, che in termini di importanza non ha uguali nell'investimento moderno. Nel libro ho trovato consigli intramontabili che, come dice Graham, sono quelli che, se si hanno a disposizione, permettono di valutare le possibilità future di un'azienda. Importante è riuscire a capire a pieno lo stato patrimoniale e il conto economico di un'azienda per interpretarne la sua solidità finanziaria. Questo permette di individuare gli investimenti migliori. Sicuramente un libro di facile lettura se si mastica già un po' l'argomento. Un po' più ostico se si è neofiti. Però bisogna anche capire che questo libro è stato scritto nel 1937. Io sicuramente non ero nato. E come tale, pur avendo dei concetti attuali in termini di aliasi, prende in esame aziende e metodi che si rifanno all'economia di quel tempo, di allora, e per cui andrebbero contestualizzati ai tempi moderni. Non credo possa mancare nella libreria di un investitore preparato. Il Tao di Charlie Munger di David Clark. Il secondo è un libro molto particolare che sinceramente non mi aspettavo fosse scritto così. Non credo sia un testo che possa piacere a tutti, ma penso che sia molto ma molto utile leggerlo. Il motivo è che si tratta di frasi e concetti espressi da Charlie Munger che David Clark scrive, contestualizza e che va ad approfondire. Per cui in pratica, nelle 224 pagine che vanno a comporre questo libro, troverete tantissime piccole pillole di saggezza del nostro eroe e socio di Warren Buffett. E per questa l'interpretazione che David Clark vuole dare, questo avere un concetto per ogni pagina può risultare noioso, a mio parere, per molti lettori, perché la gente potrebbe percepire come si stia sempre nel generico e non si vada mai ad approfondire nulla. Ma non è così, anzi, devo essere sincero, ho imparato moltissime cose di Charlie Munger che non avevo mai compreso o per le quali non ero mai venuto a contatto. Una raccolta di perle di saggezza imprenditoriali e da investitore. Il metodo Warren Buffett di Robert Hankstrom. Chiudiamo la triade del value investing con Warren Buffett in persona. Il libro è molto interessante e racconta il percorso educativo e lavorativo di Warren Buffett e tramite questo scopriamo per quale motivo sia diventato questa tipologia di investimento. Inoltre, come mai le figure di Graham, Fisher e Munger siano state di vitale importanza nella sua evoluzione di investitore. Come sempre in nessun libro di Buffett, anzi, in nessun libro su Buffett, visto che lui non ha mai scritto uno, si trova la formula segreta per l'investimento eccezionale. Ma, tramite questo percorso di crescita e di vita si riesce a comprendere come mai diventare un investitore paziente possa trasformare le persone in proficui conoscitori del mondo degli investimenti. I concetti chiave del value investing come l'essere consapevoli di comprare pezzi di aziende e non solo azioni, investire solo in cosa si capisce e si comprende appieno, usare sempre un margine di sicurezza appropriato e congruo. Ma senza esagerare, molti altri concetti più volte menzionati sono le fondamenta dell'investitore value, un must per chi vuole approfondire la mente di questo uomo eccezionale. Questi viaggiano in coppia, chi ha spostato il mio formaggio più chi ha spostato il mio formaggio il seguito di Spencer Johnson. Questi due libri sono la coppietta, viaggiano in coppia, libri che ho sempre snobbato considerandoli bambineschi ma che in realtà racchiudono in sé una storia semplicissima. Il concetto che siamo schiavi delle nostre convinzioni, delle nostre abitudini è che l'unico modo per uscire dal pantano è non solo adattarsi al cambiamento ma trovare un modo per cambiare più velocemente di lui. Non essere troppo rigidi, fissati o abitudinali. Difetti che io ho è che questi due piccoli libricini che se non avete un figlio si leggono entrambi in poco meno di un'ora possono farvi vedere le cose in una prospettiva diversa. Patrick Spencer Johnson è stato un medico e scrittore americano noto per la sua serie di libri per bambini Value Tales. E questi due scritti che in realtà hanno anche un seguito finale che ancora non ho letto sono secondo me un ottimo approccio al volersi migliorare, al voler pensare diversamente e non accadere nella solitudine o nella depressione delle abitudini che possono ritorcersi contro di noi quando le cose cambiano nella vita o nel lavoro o anche negli investimenti. Libri fantastici. Come guadagnare online in modo professionale di Marco Doria. Libro un po' fuori dal cuore rispetto a tutti gli altri. Doria qui non dà dei concetti su come guadagnare ma anzi quali siano le tecniche utilizzate dai pubblicitari per accaparrarsi più vendite e piazzare campagne di successo. Di come i professionisti cerchino di lavorare sulla nostra psicologia per piazzare brand famosi o meno nella nostra mente. Oltre a questo anche una carrellata delle tipologie di metodi e di tecniche per il guadagno online che possono essere implementate ma non si tratta come dicevo prima di un manuale. Libro interessante per non farsi inchiappettare da vari 3x2 o da vari piazzamenti sugli scaffali ma di grande interesse per chi avesse un'attività o perché sia un libro professionista per capire quali siano i cardini che muovono la psicologia umana a fare acquisti di un certo tipo o da cosa si venga colpiti nel momento in cui si vede una pubblicità. Sergio Marchionne e Tommaso Ebbart. Per ultima ma ce l'avevo già fatto un accenno nel video dedicato a Marchionne, Tommaso Ebbart è direttore della redazione di Bloomberg News di Milano e negli anni ha seguito alcune delle più importanti operazioni societarie a livello mondiale. Oltre alla biografia di Sergio Marchionne ha scritto anche quella su Leonardo del Vecchio patron di Luxottica. Sergio Marchionne viene seguito qui in questo libro sia in forma giornalistica ma anche in forma che io direi molto affezionata considerando che per decenni Ebbart lo ha tampinato in maniera quasi da stalker sia per motivi giornalistici ma anche per un senso di ammirazione. Il libro racconta di Marchionne di come chi sia un innovatore, un modo per imparare come sia sacrificante voler ottenere risultati e successi, come la vita personale in queste situazioni sia annichilita dalla volontà di essere primo e se questo ne valga veramente la pena. Libro apprezzatissimo. Se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza e alla tua vita fammelo capire con il pollice in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona anzi un'ottima idea cominciare a fare parte di questa enorme community che cresce giorno dopo giorno. con una maggiore presenza la tua iscrivendoci al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Io ti saluto e ti dico arrivederci a un prossimo video.